di lavoro istituito dalla Forma SPA e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del progetto OpenGov Metodi e Strumenti per l'Amministrazione Aperta. Il nostro compito come esperti del gruppo di lavoro è quello di supportare il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'attuazione delle iniziative italiane nell'ambito dell'Open Government Partnership, in particolar modo con riferimento alla definizione della strategia nazionale di governo aperto e nella delineazione dei contenuti del prossimo piano nazionale di governo aperto come previsto nell'ambito dell'iniziativa Open Government Partnership. Questo webinar incentrato e dedicato al tema dello spazio civico e nella qualità, il tema della qualità dell'informazione e dell'inclusione, intesi come due requisiti fondamentali per il governo aperto. È un webinar che chiude, diciamo, un primo ciclo di incontri che si sono sviluppati nelle ultime settimane e che sono stati concepiti e strutturati per fornire a tutti coloro i quali siano interessati a queste tematiche un quadro d'insieme dello stato dell'arte, del punto di partenza, del punto in cui l'Italia si trova, in merito ad alcune delle priorità considerate tali da OGP che dovranno essere sviluppate e approfondite nei prossimi piani di azione nazionali. Ho il privilegio oggi di presentare questo webinar con personalità autorevoli che ci aiuteranno a comprendere meglio questa tematica dello spazio civico e ci forniranno anche utili strumenti, utili indicazioni, quanto alla descrizione delle iniziative che sono state fino ad ora portate avanti nell'ambito di queste tematiche e dell'informazione di qualità e dell'inclusione quindi dei processi di pieno coinvolgimento dei cittadini nell'ambito di piattaforme deliberative o di processi decisionali pubblici e privati. Ora vorrei semplicemente darvi qualche indicazione così di massima di scenario rispetto proprio agli argomenti che tratteremo e a questo webinar che come vi dicevo chiude una serie di webinar precedenti che hanno trattato già i temi della partecipazione, dell'anticorruzione e della innovazione digitale. Dunque queste tematiche sono state individuate sulla base di quanto la co-presidenza di Open Government Partnership costituita per il 2021 dalla Repubblica di Corea per parte governativa e da Maria Varun del direttorio legislativo per parte delle organizzazioni delle società civile. Dicevo queste tematiche sono state individuate dalla co-presidenza di OGP nell'ambito di una call to action che è stata lanciata il 6 aprile 2021 a tutti gli stati e a tutti i governi che hanno aderito all'iniziativa e che sono in procinto di elaborare i loro piani nazionali come tematiche prioritarie attorno alle quali individuare quelli che sono degli impegni sfidanti e quindi delle impegni e delle misure e delle azioni specifiche atte a rafforzare questi temi. Con particolare riferimento al tema che oggi svilupperemo quello dello spazio civico, la co-presidenza di Open Government Partnership per il 2021 effettivamente richiede a tutti i governi di assumersi, di assumere impegni veramente trasformativi tesi alla difesa dello spazio civico, intervenendo da un lato con azioni mirate a tutela dei diritti e delle libertà che OGP riconduce nell'ambito di questo spazio civico e assicurando anche in caso di violazioni o di offese rivolte a questi diritti l'attivazione di efficaci strumenti di protezione degli stessi. I diritti e le libertà richiamati esplicitamente nella Code to Action 2021 dalla co-presidenza OGP sono riconducibili in qualche modo a quel nocciolo duro dell'elenco dei diritti fondamentali propri delle costituzioni democratiche liberali contemporanee. Quindi chiaramente la prima sfera di libertà che viene presa in considerazione in questi termini e la libertà. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Stefano, benvenuto. Dunque la libertà di espressione, dicevo, la libertà di manifestazione del pensiero che naturalmente è intimamente correlata poi a tutta una serie di diritti correlati all'informazione, al concetto di informazione come bene giuridico ma anche economico e anche bene sociale a cui tutti devono poter accedere per poter formarsi un'opinione, un'idea e quindi partecipare attivamente a processi veramente inclusivi di sviluppo democratico, di sviluppo sociale ed economico. E quindi nello spazio civico a cui si dediciamo alla copresidenza OGP 2021, riconduciamo i diritti di accedere all'informazione, il diritto ad essere informati, ma il diritto anche di informare, quindi i diritti di informazione attiva e passiva. Ancora le libertà associative, la libertà di associazione, la libertà di riunirsi pacificamente, di manifestare pacificamente e anche in questo modo esprimere le proprie idee, le proprie opinioni e orientare il dibattito pubblico su tematiche di interesse. I diritti di partecipazione che vengono ricondotti nell'alveo dello spazio civico ricomprendono anche ovviamente la tutela della privacy, tutela della privacy intesa in questa duplice dimensione che è la dimensione difensiva diciamo che impone agli stati di intervenire per salvaguardare gli individui a qualsivoglia illegittima intrusione nella propria sfera giuridica, ma anche quella dimensione pretensiva, positiva diciamo che ha assunto la tutela della privacy e anche di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e che fondamentalmente vede la necessità di predisporre degli adeguati meccanismi di protezione del diritto che ciascun individuo ha di mantenere un controllo, un dominio consapevole del proprio patrimonio informativo, quindi di tutte le informazioni che concernono la sfera individuale del soggetto, della persona fisica e quindi quel diritto all'autodeterminazione informativa frutto prima di un'elaborazione giurisprudenziale poi di una codificazione normativa che ormai fa parte di quel tessuto di diritti civili fondamentali riconducibili appunto allo spazio civico. Perché la copresidenza 2021 insiste su questo tema? Perché purtroppo prendiamo atto del fatto che proprio queste dimensioni, i vari diritti fondamentali, le varie libertà fondamentali che fanno parte dello spazio civico hanno subito e continuano a subire forti limitazioni, forti condizionamenti, condizionamenti e limitazioni riconducibili fondamentalmente a due macrofattori. Da un lato l'ampio ricorso ai poteri emergenziali che i governi sia in area OGP che fuori dall'area OGP hanno impiegato l'ampio ricorso a questi poteri emergenziali per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia e poi dall'altro i fenomeni di disinformazione, di misinformation secondo una definizione ormai fatta propria diciamo diventata comune e diffusa, fenomeni questi alimentati dalle piattaforme digitali e da internet ed entrambi questi fattori vengono individuati, additati dalla copresidenza OGP 2021 come fattori di limitazione di condizionamento dello spazio civico, tali da incidere negativamente sul rapporto fiduciario fra cittadini e istituzioni, fra cittadini e potere pubblico ma anche fra cittadini e corpi e i tradizionali corpi intermedi tipici delle società contemporanee. Di qui questo monito rivolto ai governi per intervenire non soltanto in termini di astensione quindi da violazioni pubbliche di queste aree, di queste aree del spazio civico ma anche con intervenire con misure attive, con misure proattive di difesa e di salvaguardia di questi spazi, tali da assicurare effettivamente processi realmente inclusivi nelle società contemporanee, tali da consentire e garantire agli individui di sviluppare liberamente le proprie personalità ma anche di partecipare attivamente ai processi di sviluppo economico, politico e sociale del contemporaneo. Proprio in questo ambito i relatori odierni con i loro contributi ci aiuteranno a capire come l'Italia possa svolgere un ruolo come possa e debba svolgere un ruolo cruciale in questo contesto rispondendo effettivamente a questa call to action 2021 della copresidenza, della copresidenza OGP e in effetti questo ruolo importante che l'Italia potrebbe e deve svolgere si sviluppa sia sul piano nazionale proprio in sede di delimitazione e di definizione dei contenuti della prossima strategia nazionale di governo aperto in linea con raccomandazioni provenienti anche dall'Ox che da tempo si occupa delle tematiche riguardanti il governo aperto e lo spazio civico, sia anche in sede di elaborazione del punto piano d'azione che si colloca in uno scenario estremamente sfidante che è quello delle misure, degli interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro paese che costituisce sicuramente un'occasione cruciale per la diffusione e il consolidamento dei principi di governo aperto, dei principi di salvaguardia e di protezione dello spazio civico. A livello anche internazionale l'Italia è chiamata presto ad assumere un ruolo importante assumendo l'incarico di copresidenza del commentato direttivo di OGP per il 2022 al fianco di Aidan Iacuse che rappresenterà l'organizzazione della società civile all'interno della copresidenza. E quindi una duplice sfida a cui i nostri relatori odierni che mi accingo a presentare contribuiranno senz'altro con le loro osservazioni a riempire colmare di contenuti speriamo veramente significativi per i prossimi passaggi che il nostro paese dovrà sbagliare in questo contesto. Come vedete da questo slide parteciperanno, interverranno Alessandro Bellantoni, direttore dell'unità di governo aperto e spazio civico dell'Occe, Stefano Pizzicannella per il Dipartimento Pari Opportunità presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e Anna Masera, giornalista della stampa nonché garante del Centronexa per Internet e Società e Daniela Bianchi della Federazione per le relazioni pubbliche italiana. Le conclusioni saranno poi aspidate a Laura Manconi di Forma S.P.A. per il progetto Open Government. Quindi ringraziando sinora i relatori passo la parola ad Alessandro Bellantoni di Occe e peragando tutti di poter rispettare i tempi che abbiamo a disposizione, dieci o quindici minuti per ciascun intervento, rammento i partecipanti che possono chiunque può fare delle domande tramite la chat ai relatori che noi cercheremo di girare contestualmente ai destinatari dei vostri requisiti o comunque cercheremo di insomma compatibilmente con i tempi di rispondere anche via chat. Quindi vi ringrazio sinora e chiedo ad Alessandro di prendere la parola. Grazie. Buongiorno a tutti i relatori, i partecipanti e grazie Beatrice per questa eccellente introduzione che ha coperto gran parte delle cose che volevo dire diciamo di background quindi possiamo direttamente andare nella sostanza dell'intervento. In realtà è un'ottima cosa e grazie in generale a Formez e al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'Invito, la collaborazione con l'Occe è importante, per noi ci fa piacere che l'Italia prenda in considerazione i nostri lavori in materia e speriamo di poter contribuire alle cose eccellenti che l'Italia sta facendo in questo ambito. Condivido la mia presentazione come d'accordi, ditemi se si vede bene. Adesso dovreste vederla, schermo pieno. Beatrice puoi confermare? Confermo. Perfetto, grazie mille. Allora, intanto mi scuso ovviamente la presentazione in inglese visto che ancora purtroppo l'italiano non è una lingua ufficiale dell'Occe, speriamo che nel futuro le cose cambino, ma so che il Formez gentilmente poi tradurrà la presentazione prima di metterla sul sito e vi ringrazio in anticipo di questo. Allora, come diceva Beatrice, l'Occe lavora da più di trent'anni sulle questioni relative al governo aperto, ovviamente non si chiamavano così quando abbiamo iniziato, si chiamavano accesso all'informazione, partecipazione pubblica, eccetera. Solo recentemente sono state rinominate diciamo Open Government e governo aperto proprio per cavalcare l'onda legata anche alla creazione dell'Open Government Partnership. Ed è all'interno diciamo di questo ambito che l'Occe nel 2017 ha fatto una raccomandazione ufficiale sul governo aperto, ovviamente approvata anche dall'Italia come tutti i paesi membri, che dà un po' le linee guida di che cosa dovrebbe essere diciamo quest'area di lavoro per i nostri paesi membri e tra le varie cose incluse nella raccomandazione che trovate facilmente su internet, in realtà tutto il comparto di spazio civico veniva un po' dato per scontato, era nel quello che noi chiamiamo il preambolo della raccomandazione perché chiaramente da un punto di vista di quadro legale e istituzionale i paesi Occe, da un punto di vista di spazio civico, non hanno problemi. Purtroppo, come diceva appunto anche Beatrice, come tutti noi abbiamo constatato, negli ultimi anni la performance dei paesi membri in generale nel mondo rispetto a queste tematiche non sta andando nella giusta direzione, sempre più paesi anche a causa delle iniziative legate al Covid stanno un po' restringendo lo spazio in cui l'associazione civile, i cittadini possono esercitare i loro diritti e libertà fondamentali come definiti allo spazio civico e quindi all'Occe abbiamo deciso di creare un osservatorio che guardi proprio alla performance dei nostri paesi in queste tematiche, l'osservatorio sullo spazio civico e lo abbiamo però inserito all'interno del lavoro su Governo Aperto proprio per sottolineare il link, il collegamento fra lo spazio civico come prerequisito della partecipazione e dei temi come l'accountability eccetera. Questa è la definizione che utilizziamo all'Occe di spazio civico ma non è una definizione particolarmente diversa da quella che tipicamente viene utilizzata insomma a livello internazionale e quindi appunto definiamo lo spazio civico come quelle condizioni legali di politiche pubbliche, istituzionali e di pratiche che permettono agli attori non pubblici di accedere all'informazione, di libertà di parola, di associazione, di organizzazione e di partecipazione alla vita pubblica. Mi scuso se nel background sentite mia figlia che ha deciso di urlare proprio in questo momento come tipicamente fa ogni volta che avro il microfono ma questo è in questi giorni. Andando avanti ancora dicevo rapidamente perché Beatrice ha coperto benissimo questo tema che non è un tema chiaramente di cui ci piace parlare ma la situazione nel mondo intorno allo spazio civico non è delle più rose da moltissimi punti di vista. ci sono attacchi alla libertà di parola, dissociazione, l'impatto della misa e disinformazione, lo spazio civico online è un'altra tematica nuova, complessa e quindi insomma il trend che abbiamo visto nei Paesi membri non è appunto un trend che va a rafforzare, a proteggere lo spazio civico ma al contrario e quindi abbiamo deciso di guardare queste cose. Però ho deciso di farlo anche da un altro punto di vista perché mentre tutto questo accade e poi lo vedremo meglio nel dettaglio successivamente, allo stesso tempo come l'Italia dimostra, come la dimostra devo dire la maggior parte dei Paesi membri dell'Ocse, tanto succede a livello Paese di positivo e lo spazio civico sta diventando invece uno spazio pieno di vita in cui la società civile e i governi stanno imparando sempre di più, anche grazie all'Open Government Partnership, a collaborare, a co-creare politiche e leggi. Quindi in un clima che purtroppo è tendenzialmente complesso e direi anche negativo, in realtà succedono anche moltissime cose positive che noi vorremmo evidenziare e che vorremmo appoggiare per creare una dinamica diciamo di contropendenza. Ora questo è il quadro analitico che l'Ocse utilizza per parlare di spazio civico. Non è nuovo, però non è quello standard, nel senso che come potrete vedere diamo molto spazio all'uso dello spazio civico per aspetti che normalmente sarebbero legati di più al governo aperto, cioè la partecipazione cittadina e la partecipazione della società civile nella definizione e implementazione di politiche pubbliche. Diamo anche molto spazio ovviamente, a parte le tradizionali libertà civiche, anche alla parte online e relativa ai media, perché oggi più che forse nel passato il ruolo del mondo digitale e internet, ma anche di come sta evolvendo il mondo di media, il ruolo dei giornali tradizionali rispetto ai giornali online, eccetera, ha un impatto non indifferente rispetto alla capacità dei cittadini di comprendere quello che succede nel mondo e quindi di essere anche degli attori nella definizione delle politiche, delle leggi atte a, in qualche modo, regolare e questi aspetti, questi aspetti, per esempio, un caso classico è Covid, Green Pass, eccetera, tutto l'aspetto di misil disinformation intorno a queste tematiche importanti, ma anche il cambiamento climatico, eccetera, tipicamente accadono molto più online che offline nel giorno d'oggi. Allo stesso tempo abbiamo degli strumenti specifici che utilizziamo per aiutare i nostri paesi membri, come i GIF2 di paesi, ne abbiamo lanciato uno che è già online della Finlandia, si chiama Civic Space Scan of Finland, ne stiamo facendo uno del Portogallo e sono degli zoom, diciamo, specifici sulla situazione di un paese rispetto a queste cinque, diciamo, queste cinque petali del fiore oxe, come abbiamo detto di chiamarlo recentemente. Altre cose di cui parliamo successivamente, stiamo per lanciare un rapporto globale nei primi mesi del 2022, in cui tutti i paesi dell'Ox e più a una decina di altri paesi non membri, quindi arriviamo a una cinquantina di paesi, vengono comparati da un punto di vista della loro performance rispetto a varie cose, tra cui open government e spazio civico. E poi abbiamo un advisory group con gli attori principali della società civile che ci aiutano a capire quali sono le dinamiche e i trend fondamentali in questo contesto. Questa è la nostra teoria del cambio e ne parlo perché appunto mostra un po' quello che vi stavo dicendo. Da una parte c'è un'attenzione alle condizioni dei piure, quindi le leggi, i quadri legali, di politiche pubbliche, eccetera, e come queste poi hanno un impatto sulle quattro dimensioni dello spazio civico di cui vi ho parlato, ma cerchiamo anche di guardare anche a delle condizioni di fatto, cioè i meccanismi istituzionali messi in pratica, tra cui per esempio i meccanismi legati al piano d'azione dell'OGP o delle pratiche che magari succedono a livello locale o regionale, per dare evidenza appunto a quello che dicevo prima, a questa vitalità positiva che esiste in parallelo a delle tendenze meno positive in quest'ambito. L'idea è quello di monitorare e quantificare l'impatto intermedio e a lungo termine delle politiche pubbliche nell'ambito dello spazio civico. Chiaramente l'OGP è un'organizzazione intergovernamentale, intergovernativa, e quindi è chiaro che il nostro focus è sbilanciato su quello che i governi fanno per promuovere lo spazio civico, ma cerchiamo comunque di dare spazio anche alle pratiche della società civile. L'idea è vedere come tutto questo contribuisca alla democrazia e a una governance più efficace a livello paese. Accelero un pochino perché vedo che il tempo è passato rapidamente, ma possiamo discutere le medie o magari durante la discussione successiva. Quello che vi dicevo era appunto i prodotti che l'Ocse sta facendo. Uno è questo questionario globale che abbiamo fatto sullo spazio civico che fondamentalmente darà la base di dati sulla quale verrà scritto, in realtà scrivendo in questo momento il rapporto che lanceremo all'inizio dell'anno prossimo. Spero che sarà di interesse per voi per vedere come l'Italia si posiziona rispetto al resto del mondo. Come vi dicevo, 50 paesi, però anche grande discussione dei risultati non solo fra gli esperti dei paesi all'interno dei vari comitati Ocse e gli esperti Ocse, ma anche attori fondamentali della società civile come il rapporto a San Frontier, l'Agenzia Europea dei diritti fondamentali, eccetera, eccetera. È così da poter includere nel rapporto anche un punto di vista della società civile su queste cose. E poi vorrei concludere rapidamente con una slide che dà un po' l'idea di come l'Italia si posiziona all'interno dei vari indici e ranking globali che hanno a che fare con lo spazio civico. Ora, piuttosto che entrare nel dettaglio di tutti questi, direi che ci sono due cose che rilevano. Uno, che c'è bisogno di un index dell'Ocse, perché come potete vedere l'Italia secondo Frido Maus è al novantesimo posto su cento, cento è il paese, sono i paesi che fanno meglio, quindi l'Italia va benissimo, mentre secondo l'Economist Intelligence Unit siamo una democrazia flawed, una democrazia con grossi problemi strutturali e siamo al ventinovesimo posto in una classifica inversa. Ora, chiaramente perché è così? Perché Frido Maus guarda al quadro legale e istituzionale e ovviamente, come vedremo nella prossima slide, l'Italia ha tutte le leggi necessarie per implementare lo spazio civico nel modo giusto e le istituzioni capaci di farlo, mentre l'Economist Intelligence Unit è un ranking basato su delle opinioni raccolte dai giornalisti dell'Economist Indigo per il mondo e quindi è un perception based survey. Quello che l'Ocse sta cercando di fare è di andare un po' oltre questi ranking che poi forse non aiutano tantissimo i paesi a capire cosa c'è da fare da un punto di vista di miglioramenti delle politiche e dei quadri regolamentari. Quello che sta cercando di fare l'Ocse è mischiare queste due cose, integrarle, quindi da una parte sì fare il quadro della situazione come è nel momento in cui si fa l'analisi e quindi da un punto di vista di leggi, politiche, istituzioni, capacità del governo, eccetera, ma anche di cercare di interpretare un po' l'impatto che queste hanno da un punto di vista di implementazione nel, diciamo, sul contesto generale, sulla qualità della democrazia. E infatti se guardiamo l'analisi Ocse, e questo è un estratto dal nostro rapporto, chiaramente potete vedere che non c'è nessun aspetto in cui l'Italia sia particolarmente in una situazione complicata, al contrario, da un punto di vista legale e di meccanismi per facilitare la collaborazione e il ruolo della società civile. Ci sono tutti, diciamo, i prerequisiti per far sì che le cose vadano bene, dove c'è chiaramente una questione più importante nella pratica e quindi parlando poi con i vari attori del settore ci rendiamo conto che ci sono delle lentezze nell'implementazione di certe leggi, l'accesso all'informazione non è così rapida e puntuale come chiaramente la normativa prevede, eccetera. E su queste cose però, e questo pensiamo sia il ruolo un po' dell'Ocse, ma ci sono azioni da poter fare e speriamo che il nostro rapporto e le analisi che facciamo possano aiutare il Paese a fare una lista di priorità sulle quali lavorare per migliorare il contesto di, noi diciamo sempre, di promozione e protezione dello spazio civico a livello nazionale. Mi fermo qui adesso con questo piccolissimo riassunto delle azioni dell'Ocse in CAM in ambito di spazio civico e della posizione dell'Italia, ma chiaramente posso darvi più dettagli nel caso di vostro interesse durante la discussione. Grazie Beatrice. Grazie, grazie mille Alessandro per il tuo contributo, è estremamente interessante il discorso riguardante proprio la necessità di combinare questi indicatori per valutare poi, no, il grado di rispetto e di protezione del civic space tenendo conto e del piano spositamente formale, giuridico formale e del piano invece poi di implementazione di queste misure. Su questo credo che sia questo un punto focale, diciamo, anche da tenere in considerazione nella sede di elaborazione di quelli che saranno i prossimi contenuti del quinto piano, del quinto piano di azione nazionale di Open Government. E a questo punto la parola passa a Stefano Pizzicannella, che ringrazia Sindora, che ci parlerà, spero, di quel concetto chiave, diciamo, del PNRR, del nostro piano, anche del civic space, che è quello di inclusione, no, la dimensione inclusiva che questi strumenti dovranno avere nei confronti di una serie di gruppi che sono poco rappresentati, soprattutto nel nostro paese. Se posso, aggiungo una cosa proprio prima di darti la parola, che mi ha colpita in maniera particolare un dato che non conoscevo francamente rispetto alle donne in Italia. Pare che ancora oggi in Italia tre donne su dieci in età lavorativa cinque su dieci in meridione non siano tipolari di un proprio conto corrente. E questo è un dato che mi ha spaventata, perché significativo significa che dipendono da qualcun altro, dipendono probabilmente da un partner e quindi questo può creare situazioni di dipendenza economica delle donne sono situazioni, purtroppo, che caratterizzano almeno il nostro paese per certi aspetti e che forse a cui il PNRR, per esempio, ha deciso di dare particolare attenzione. Quindi do la parola a Stefano chiedendogli un contributo anche rispetto proprio alle iniziative che fino ad ora sono state risolte proprio in questi processi inclusivi delle donne, ma anche dei giovani e altri gruppi ancora poco rappresentati. Grazie. Sì, grazie Beatrice, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Dunque, sì, effettivamente seguendo l'intervento di Alessandro mi aggancio a un paio di riferimenti che lui ha fatto nella sua presentazione, in particolare quando ha legato appunto il rafforzamento dello spazio civico a come effetti anche nel medio periodo quello dell'empowerment dei cittadini e ovviamente potenzia la presenza e il ruolo dei cittadini nella definizione delle politiche pubbliche. Su questo io appunto non posso che esaltare anche la dimensione diciamo femminile dell'empowerment e quindi anche l'empowerment femminile di cui ovviamente si discute in tanti ambiti secondo diverse prospettive ha anche una dimensione legata ovviamente alla partecipazione femminile negli spazi civici. L'empowerment femminile è stato peraltro al centro della presidenza italiana del G20 che andrà a concludersi di qui a qualche giorno con il summit dei leader a Roma ed in particolare è stato un tema che è stato toccato dalle diverse ministeriali e tavoli e gruppi di lavoro che si sono succeduti nel corso di quest'anno sui diversi temi dal lavoro all'educazione, all'istruzione, all'università, la ricerca e la cultura. Tutto questo poi ha trovato un momento culminante nella conferenza la prima di questo tipo che l'Italia ha voluto organizzare dedicata all'empowerment femminile che si è tenuta il 26 agosto a Santa Margherita Ligure. Ora il punto è stato proprio quello di cogliere l'occasione fornita dalla crisi dovuta alla pandemia e quindi dall'uscita dalla crisi che ormai siamo già in procinto di stiamo percorrendo sostanzialmente, è quello di appunto dare una spinta ulteriore all'uscita dalla crisi e ai percorsi quindi di recupero dalla crisi attraverso il pieno impiego delle risorse disponibili e tra questo ovviamente il pieno impiego anche delle donne e quindi l'empowerment femminile come una chiave per dare un boost alla ripresa dopo la crisi pandemica. E proprio in occasione della conferenza di Santa Margherita Ligure ovviamente è stata posta l'attenzione su tutta una serie di fattori diciamo abilitanti e che sostengono l'empowerment femminile delle precondizioni e che sono legate soprattutto alla dimensione dell'educazione, dell'istruzione che deve necessariamente toccare alcuni ambiti che sono poi gli ambiti di sviluppo futuro e che su cui peraltro il PNRR è maggiormente concentrato che sono appunto l'educazione nell'ambito delle materie STEM, scientifiche e digitali e nelle materie che poi attengono all'economia green e non è un caso che gran parte degli interventi proprio del PNRR poi saranno, sono di fatto concentrati in queste aree. Tra i temi di educazione, come diceva giustamente Beatrice, anche l'educazione finanziaria è stato oggetto di attenzione perché appunto come dicevi Beatrice molto spesso per le donne manca un'educazione all'indipendenza finanziaria che poi è una chiave fondamentale insieme all'empowerment in senso più generale per anche uscire e sottrarsi dal circuito della violenza che è veramente il più grosso ostacolo all'empowerment femminile e diciamo aumentato anche nei numeri da quello che si è vissuto con la pandemia e l'Italia non si sottrae certo a questo problema. Quindi l'empowerment femminile può sicuramente essere da un lato la chiave per rilanciare in maniera più spedita il recupero delle economie ma dall'altro anche la chiave per consentire alle donne appunto anche una piena partecipazione alla vita sociale, non solo economica, delle proprie società, quindi dei propri paesi e quindi è importante che il recupero e la tutela dello spazio civico passi anche attraverso un'inclusione piena delle donne anche laddove si possono essere diciamo pratiche o comunque condizioni che spesso limitano o frenano questa partecipazione penso ovviamente ai discorsi legati alla violenza, all'ate speech, alla violenza online e a tutta quella serie di stereotipi che molto spesso accompagnano la dimensione di confronto nelle sedi di confronto appunto civico che ovviamente con un lavoro anche di medio e lungo periodo dovrebbero con politiche adeguate essere superate. Voglio sottolineare che l'Italia si è diotata per la prima volta di una strategia nazionale per la parità di genere che è stata presentata e approvata quest'estate proprio poco prima della riunione G20 sull'Empowerment Fumile è una strategia che diciamo specchia la strategia europea per la parità di genere che è stata adottata dalla commissaria Dalli all'inizio del 2020 ed è appunto per la prima volta il segnale che l'Italia vuole anche qui dotarsi in una strategia complessiva che unisca sotto una sola prospettiva tutta una serie di attività per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro ovviamente la partecipazione delle donne all'educazione in alcune materie che sono quelle che ho citato e altri interventi che sono già in corso ma che ovviamente non hanno o non avevano ancora una caratterizzazione unificante per quanto riguarda ho visto che Alessandro ha citato il ranking o meglio la classificazione di Civicus per quanto riguarda gli spazi civici in cui l'Italia è, devo dire, in buona compagnia nel senso in numerosa compagnia è uno dei paesi indicato come in arretramento rispetto allo spazio civico e alla tutela dello spazio civico mi sembra che in Europa si salvino soltanto pochi paesi della Germania e i paesi nordici insomma mi sembra che noi siamo in buona compagnia insieme a Francia, Regno Unito probabilmente questo è legato anche alle misure Covid ma non solo diciamo l'arretramento dello spazio civico mi ricordo dai lavori che ho seguito anche in OGP per molti anni in passato è una tendenza che precede la crisi dovuta alla pandemia e che va diciamo in alcuni paesi con alcuni governi è molto più evidente in altri paesi più diciamo tradizionalmente democratici forse è meno evidente però è una linea di tendenza che segna un po' gli ultimi anni delle attività diciamo legate all'implementazione dello spazio civico io quindi per questo credo che l'Italia ha un'occasione con il quinto piano che è in corso o meglio per le quali si stanno avviando la definizione delle azioni e anche la strategia dovrebbe dare assicurare diciamo una copertura a questa dimensione politica di tutela dello spazio dello spazio civico ovviamente l'auspicio è che in queste azioni appunto la dimensione di inclusione delle categorie a partire ovviamente dalle donne ma anche dalle altre categorie speciali, particolari, gruppi vulnerabili sia massima in modo che nei processi di consultazione negli spazi civici vi sia effettivamente un riflesso di quella che è la diversità e la composizione diversificata della società e che quindi ci siano per quanto possibile il minor numero di bias possibili in qualsiasi processo in cui lo spazio civico trovi spazio un auspicio che io anche vorrei diciamo sottolineare è quello che le azioni del nuovo piano possano anche avere diciamo e trasversalmente una dimensione accorta e attenta rispetto alle problematiche di genere tradizionalmente nei piani per l'open government c'è anche tutta una serie di attività legata alla raccolta dei dati alla diffusione dei dati immagino anche nel nuovo piano ci sarà ecco anche qui nella trattazione dei dati nella diffusione dei dati nel miglioramento della diffusione dei dati è importante che questi laddove possibile abbiano anche una dimensione di genere che è importante abbia la sua evidenza e ovviamente come fattori abilitanti è importante anche che la dimensione degli skills che possono consentire appunto la pratica da parte soprattutto delle pubbliche amministrazioni di coinvolgere apertura abbia appunto sempre per quanto possibile l'attenzione anche per l'inclusione delle categorie le più diverse riferite ai diversi gruppi e mi ha fatto piacere in un paio di incontri che abbiamo fatto in passato che Beatrice abbia diciamo evidenziato il dipartimento delle pari opportunità per il quale lavoro come un dipartimento che diciamo coinvolga in maniera stabile associazioni, organizzazioni quindi rappresentanti della società civile che rappresentano alcune categorie quindi parlo ovviamente di donne per quanto riguarda le politiche per la varietà di genere parlo anche di associazioni LGBT per quanto riguarda le politiche per l'inclusione delle persone omosessuali pubbliche e così via anche per altre categorie di cui il dipartimento si occupa quindi effettivamente l'inclusione potrebbe come una caratteristica trasversale un po' attraversare tutto il nuovo piano così come giustamente hai detto tu Beatrice attraverso anche il PNRR perché le politiche per la parità di genere per l'inclusione dei giovani sono due politiche trasversali che caratterizzano l'attuazione dell'intero piano e quindi financo nella previsione che coloro che dovranno attuare concretamente i progetti del piano tengano conto della dimensione di genere e della dimensione dei giovani nella definizione dei team di lavoro che saranno chiamati in modo che il piano non solo abbia attenzione per le donne, per i giovani ma sia anche attuato dai giovani e dalle donne questo ecco è importante che ci sia questa doppia dimensione cioè non solo che le politiche si rivolgano a certe categorie ma che queste categorie possano in prima persona fare le politiche e questo è fondamentale più volte anche nella conferenza di cui ho parlato di Santa Margherita Ligure si è parlato della partecipazione delle donne nelle politiche della definizione delle politiche green e delle politiche per la digitalizzazione che condiziona ovviamente una diffusione dell'istruzione e dell'educazione in certe discipline ma che ovviamente le donne partecipino nella definizione di queste politiche e questo mi sembra che nel PNRR diciamo è una dimensione che è stata presa in considerazione quindi insomma spero che anche il nuovo piano possa avere diciamo questo tipo di attenzione trasversale nell'attuazione delle diverse azioni. Grazie Grazie a te Stefano per questo importante contributo in effetti quanto dicevi in merito alla necessità di coinvolgere le donne o comunque altri gruppi scarsamente presenti nei centri decisionali sia essenziale anche in questa fase cioè nella fase di attuazione di tutte le misure e gli interventi previsti nell'ambito del PNRR sarebbe per esempio molto bello che la presenza femminile sempre parlare di donne sia più rappresentata in questi organi che dovranno poi gestire magari i finanziamenti e i prestiti a cavallo della a margine degli interventi previsti delle misure di attuazione del recovery fund questo sarebbe molto molto utile proprio per garantire una maggiore inclusione dei gruppi poco presentati. Grazie ancora tante a Stefano e passo la parola adesso ad Anna Masera che abbiamo il piacere di avere con noi è veramente un piacere, la ringrazio molto per questo collegamento che so che per lei non è stato semplicissimo le passo subito la parola perché so che ci sono delle problematiche di int di connessione e quindi prego prego a lei la parola grazie 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 a voi spero che mi sentiate bene sono in vacanza vi confesso quindi sono in una casa ospite da amici che hanno il wifi ma potrebbe entrare nella stanza una bambina da un momento all'altro quindi insomma volevo essere sicura di riuscire a parlarvi in silenzio mi sentite bene? la sentiamo benissimo grazie la sentiamo forte e chiaro ovviamente Anna Masera parlerà di informazione di qualità dell'informazione che è l'altro punto focale del seminario del webinar odierno grazie Anna prego ecco io sono rimasta colpita dagli indicatori che ha mostrato Alessandro Bellantoni dell'Ocse perché gli indicatori mostrano che l'Italia è molto indietro e siamo purtroppo molto indietro anche nell'indicatore della fiducia che viene rilasciato ogni anno dall'Edelman Trust Barometer che è un indicatore internazionale della fiducia del pubblico verso il mondo dell'informazione e soprattutto verso i media quindi noi siamo molto in basso in quell'indicatore siamo un po' risaliti durante il Covid durante la pandemia perché alla fine la gente comunque cercava degli appigli per sapere come pensarla nei tempi quando c'è stata l'emergenza però poi è ritornato giù cioè di fatto la gente non si fida dei giornali io vi ho messo nella chat il link alla mia ultima rubrica in cui ho scritto ho dato tutti questi dati non sto qui a ripeterveli però c'è pochissima fiducia nei media e questa mancanza di fiducia purtroppo corrisponde a una crisi economica proprio del modello di business dei giornali perché i giornali stanno andando malissimo i media tradizionali vanno malissimo i social media invece vanno molto bene nonostante la disinformazione anzi la disinformazione gli fa andare ancora meglio perché comunque sono molto frequentati perché alla gente piacciono di più le piattaforme dei social media e i giornali non sono stati capaci a creare piattaforme alternative di qualità migliori più facili più user friendly più alla portata della gente e le piattaforme dei giornali adesso tra l'altro proprio perché c'è la crisi della raccolta pubblicitaria quindi la crisi del modello di business dei giornali che vendevano di più con la pubblicità e quindi potevano ottenere un prezzo basso e potevano dare i siti internet gratuiti adesso hanno tutti creato i paywall questi muri attraverso i quali non si passa se non si paga l'abbonamento e questo sta creando a proposito di accesso all'informazione un grosso problema perché in Italia l'accesso all'informazione sta tornando indietro anziché andare avanti cioè si pensava che internet avrebbe aperto l'informazione a tutti e avrebbe reso accessibile informazione di qualità ovunque in qualsiasi momento dappertutto e invece in realtà il problema si sta tornando al nuovo feudalesimo elitario dove ci sono le elite che accedono all'informazione a pagamento di qualità tra virgolette e le masse che poi accedono alla disinformazione gratuita e questa cosa è un grande problema non solo dobbiamo io voglio parlarvi di due problemi uno è il problema dell'accesso all'informazione di qualità che non è più aperta due il problema che comunque sia dobbiamo tenere conto che va comunque serve un'educazione civica molto forte un'educazione che insegna al pubblico ad accedere all'informazione a trovare a saper distinguere ciò che è vero ciò che è falso ciò che è di qualità ciò che non lo è perché anche i media tradizionali che millantano di essere di qualità sbagliano cioè non è che siano infallibili e se e se non correggono in tempo reale se non dialogano con il loro pubblico il pubblico pensa che abbia che non abbiano che non sbaglino primo e invece sbagliano e quindi prendono un'informazione errata per un'informazione giusta l'ha detto un tempo si diceva l'ha detto la televisione l'ha detto il giornale ecco queste cose qua sono frasi che non devono succedere non deve succedere che le persone pensino in questo modo perché non è così non è che siccome l'ha detto la televisione l'ha detto il giornale allora è vero bisogna verificare comunque sempre e l'altro problema è che tu hai perso un attimo il filo si da da una parte quindi il problema dell'accesso all'informazione di qualità e l'altro problema è la mancanza di autorevolezza vera perché il problema è che i giornali perdono autorevolezza nel momento in cui non dialogano con il loro pubblico quindi non solo chiudono l'accesso e lo fanno pagare ma anche quel poco accesso aperto che c'è anche la loro presenza sui social media per esempio le loro pagine facebook non è poi un accesso dialogante con il pubblico per cui se hanno fatto un errore non correggono in maniera trasparente non dialogano con il pubblico che invece magari ha capito ha visto l'errore e lo segnala al giornale o al giornalista ma tendono ancora a calare dall'alto al basso l'informazione senza dialogare invece alla pari come internet permette perché con internet è cambiato il modo di fare informazione con internet le persone si informano a vicenda si parlano dialogano alla pari peer to peer quindi allo stesso livello perché sotto l'articolo o sotto il post su facebook o sotto il post su twitter o su youtube si può commentare quindi chi ne sa di più su quell'argomento segnala l'errore e se nessuno risponde dall'altra parte se non c'è un call center così come nelle grandi aziende così come nelle istituzioni serve un call center per rispondere ai cittadini così serve nei giornali serve tantissimo e non è stato ancora veramente creato ci sono dei social media team fatti da pochi giornalisti a volte anche non da giornalisti piccolissimi che devono comunicare ma nel senso che postano i link ai pezzi agli articoli del giornale per pubblicizzarli sui social ma poi non hanno il tempo e non sono neanche autorizzati a dialogare con il pubblico sui social e quindi non c'è questo dialogo quindi cosa succede che noi tanto lamentiamo lo hate speech l'odio online sui social media ma siamo noi ad alimentarlo perché ovviamente i cittadini furibondi di non poter dialogare con chi ha pubblicato una cosa che magari è sbagliata imprecisa un titolo che è clickbait per cui prometto una cosa ma non è proprio quella la cosa giusta vogliono dialogare con il pubblico non c'è con il giornalista o con il direttore del giornale o con qualcuno che rappresenta l'attestata e non c'è dall'altra parte nessuno e questa rabbia si alimenta e si crea questo odio online di cui poi i giornali parlano dicendo ah guardate come sono cattivi quelli che fanno sui social i cittadini sui social che alimentano l'odio online quindi è colpa di social media che l'odio online si alimenta allora piano a dare colpa ai social media è anche vero che come sono fatti i social media con certi algoritmi tendono ad alimentare questa cosa perché ovviamente fa traffico però la colpa è anche nostra che siamo lì e non stiamo stiamo cercando di fare ecologia dell'informazione di ripulire l'informazione in maniera tale che ci sia un dialogo corretto trasparente immediato una correzione immediata un'attenzione al cittadino lettore che cerca di avere le informazioni corrette perché all'inizio le domande sono sempre con i toni più bassi poi i toni si accendono se nessuno risponde quindi è una nostra responsabilità quindi io sono ex garante di elettori dico ex perché sto per andare in pensione quindi sto per finire questo lavoro che è stato un po' unico in Italia perché è l'unico giornale che ha avuto il coraggio di sperimentare questo ruolo credo fortemente che ci sia bisogno di garanti di elettori garanti di elettori vuol dire che rispondono al pubblico che difendono il pubblico che lo rappresentano nel giornale che cercano di fare le correzioni in maniera trasparente e che cercano di spiegare anche come funzionano i giornali perché il problema è che spesso i cittadini non sanno come funzionano i giornali quindi partono già prevenuti sfiduciati perché abbiamo perché non ci siamo meritati la fiducia perché abbiamo sbagliato e non abbiamo saputo correggere per cui nel tempo abbiamo perso credibilità la nostra reputazione è stata intaccata e quando si perde reputazione e credibilità è molto più difficile poi riconquistarla quindi siamo in un momento di grandissima sfida di grande difficoltà ed è un po' un cane che si morde la coda perché ovviamente il modello di business sicuramente è in crisi ma perché questa è la realtà giusto perché gli editori non sono stati capaci di trovare un sistema più semplice come hanno fatto per esempio quelli dell'industria musicale tutte le industrie di contenuti interrettuali hanno trovato dei modelli di business online gli editori sono gli ultimi gli editori dei giornali sono gli ultimi gli editori dei libri l'hanno fatto gli editori della musica lo hanno fatto noi nell'editoria dell'informazione siamo molto indietro siamo molto in crisi e spero cioè l'unica alternativa non so se ci sarà poi tempo poi se ci sono domande fatene ma penso che ci sia bisogno perché Joseph Stiglitz ha detto c'è bisogno di informazione pubblica e un altro grande sociologo che è americano che si chiama Clay Shurkey che ho citato nella mia rubrica ha detto c'è bisogno di giornalismo più che di giornali quindi l'importante è che ci sia il giornalismo l'importante è che ci sia l'informazione fatta bene e che si cerchino le notizie le informazioni per far sapere cosa succede però evidentemente servono alternative o pagate dal pubblico quindi informazione pubblica sostenuta dal pubblico finanziata dal pubblico quindi di fatto in qualche modo con le tasse così come si sta facendo con la RAI che dovrebbe essere informazione pubblica ma per la RAI è tutto un altro capitolo di informazione pubblica però vischia la pubblicità non è come la BBC quindi anche lì si apre un enorme problema oppure il mecenatismo come fanno in certi giornali anglosassoni il Guardian per esempio dal crowdfunding ma anche da un modo comunque che l'informazione sia gratuita quindi c'è chi volendo fa le sottoscrizioni e paga per permettere al giornale di continuare a restare gratuito come d'altronde si fa con Wikipedia Wikipedia ogni anno chiede a chi la utilizza ai suoi utenti se ce la fate dateci un contributo perché per poter dare Wikipedia gratis a tutti dobbiamo spendere dei soldi e non possiamo continuare a darla gratis così se non ci sostenete quindi ci sono grandi campagne di sottoscrizione per chi può permettersi di sottoscrivere per il resto della comunità in maniera che il resto della comunità che invece non può permettersi possa continuare ad accedere all'informazione gratuita questo è proprio un problema etico è un problema etico enorme perché il problema è che rischiamo di non avere più informazione di qualità accessibile a tutto il pubblico da una parte e dall'altra parte il grande problema è che comunque sia l'informazione di qualità resta di qualità se si comporta come si comportano i wikipediani su Wikipedia che correggono quando sbagliano che c'è qualcuno sempre che continua a correggere che rispondono agli utenti che si comportano in maniera collaborativa nell'era di internet questo è un po' il mondo se teniamo il mondo antico di un secolo fa dei giornali della carta stampata non ne usciremo vivi i giornali sono in declinio industriale assolutamente ineluttabile cioè non ho molta speranza per il loro futuro se non cambiano il loro futuro oddio c'è un silenzio assordante tutto a posto? ecco no perché l'avevamo persa per un attimo sì 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 abbiamo sentito abbiamo avuto qualche cosa mi avete persa? a un certo punto no persa no però c'era un problema di audio alla fine non abbiamo forse è saltato qualche passaggio ma assolutamente grazie perché il suo contributo è posso ripetere posso ripetere quello che è saltato si serve se può grazie l'ultimissimo passaggio perché c'erano delle interferenze proprio l'ultimo inciso l'ultimo suo ragionamento se lo puoi ripetere la ringrazio l'ultimo passaggio l'ho fatto sul fatto che se i giornali non trovano da una parte un modello di business quindi gli editori che facciano si trovino d'accordo a trovare un sistema per sostenersi per continuare a dare l'accesso all'informazione pubblica in maniera gratuita e non a pagamento o se lo danno a pagamento che lo dia una pagamento in maniera tale che sia accessibile di più quindi un pagamento che sia considerato sia più ragionevole di quello che attualmente quindi fare degli abbonamenti più accessibili più facili da accedere e magari più diversificati e l'altra cosa è che se i giornali non imparano comunque a dialogare con il pubblico in maniera veramente interattiva come internet concede quindi come si fa con Wikipedia quindi dare conoscenze e informazione ma anche rispondere alle critiche e correggere in continuazione con gli utenti se continuano a mantenere un approccio da giornale di carta di un secolo fa secondo me non hanno un futuro quindi penso che siano molto in crisi e penso che debba proprio cambiare il modello comunque queste cose le ho scritte nella mia rubrica mi ho mandato il link e spero che se non l'avete sentito tutto li trovate più o meno le cose che ho detto vedo una domanda aspetta vedo una domanda una buona idea per alimentare il giornalismo di qualità non potrebbe essere quello di alimentarlo con i preventi sequestrati a seguito del giornalismo di inchiesta è una domanda non ho capito con i preventi sequestrati a seguito del giornalismo di inchiesta i preventi sequestrati probabilmente si farà riferimento alle cause alle controversie sulle questioni appunto oggetto di inchiesta non so forse ma sì questo è Giuseppe Giorgio Facelli non so se lui vuole parlare e spiegarmi meglio la domanda comunque sicuramente ci sono mille possibilità e tanti giornali stanno riuscendo a trovare la loro via tanti piccoli giornali anche stanno nascendo e anche tanti nuovi giornali comunque ognuno chi non riesce a trovare la sua via voi vedrete adesso una crisi che accelderà il rischio è che i grandi giornali tradizionali cioè quelli a cui voi siete abituati nazionali generalisti diventino sempre più piattaforme di infotainment anziché giornali che scelgono e selezionano l'informazione e basta quindi informazione nel senso notizie e basta infotainment voglio dire che per mantenersi puntano molto al clickbait per ottenere la poca pubblicità rimasta la grande pubblicità è andata tutta su Facebook e Google e i giornali rischiano quindi di prendersi le briciole ma hanno bisogno di queste briciole per continuare a pagarsi quindi vedrete sempre più un decadimento della qualità da una parte e dall'altra parte il giornalismo d'inchiesta ci sarà c'è e sarà sempre più a pagamento quindi non leggeranno solo quelli che lo pagano però insomma sarà secondo me rischia che se cade il modello di business per un grande giornale il grande giornale rischia di non stare più in piedi perché ha tanti giornalisti che non riesce più a pagare per cui rischia che chiudano e riaprano altre attività altrove cioè il giornalismo ci sarà sempre che ce n'è bisogno ma troveranno altri modelli e altri sistemi ci saranno giornalisti che si mettono in proprio da soli o nuove agenzie che vendono le loro inchieste su podcast o newsletter e si organizzano da soli ma questi grandi giornali a cui siamo abituati il Corriere, la Stampa, Repubblica sono giornali che rischiano veramente di aver fatto il loro tempo se non si organizzano in fretta e non cambiano in fretta l'approccio Grazie, grazie Anna Malzera Siamo riusciti a seguirla Grazie, grazie veramente per questo intervento che è pieno di spunti pieno di spunti per riflettere per tante domande che mi vengono in mente veramente tante spero che lei possa trattenersi un pochettino con noi fino alla conclusione del webinar per vedere se riusciamo poi ad aprire questa piccola parentesi di infattito perché è veramente molto molto suggestivo quanto lei diceva soprattutto con riferimento ma insomma una chiosa proprio a margine di quanto lei accennava in merito alla dimensione sociale del diritto di accesso all'informazione questo è un diritto che lo Stato deve tutelare che non è più soltanto un diritto circoscritto come dire alla necessità di garantire a tutti di accedere alla società dell'informazione all'informazione ma diventa un diritto che lo Stato deve garantire di accedere all'informazione di qualità cioè proprio questo l'elemento in più rispetto naturalmente a quando è nata anche la necessità di dare copertura giuridica e normativa a questo diritto di accesso all'informazione che è stata drammaticamente portata agli onori della cronaca proprio nel periodo pandemico insomma l'importanza di un'informazione di qualità noi la viviamo tuttora ogni giorno con riferimento per esempio alla necessità di garantire al dovere civico di garantire un'informazione corretta completa e regolare per esempio sulla questione pandemica quindi forse lo Stato potrebbe far qualcosa in questo io penso da questo punto di vista volevo solo dire che penso che bisognerebbe dare accesso attraverso abbonamenti digitali pagati dalle scuole si potrebbero creare convenzioni che sovvenzionano in questo modo secondo le fonti di qualità dell'informazione e nello stesso tempo che diano l'accesso ai cittadini che non possono permettersi altrimenti di pagare gli abbonamenti ci dovrebbe essere probabilmente un'agevolazione in questo senso certo questa è una per esempio potrebbe essere una strada grazie grazie mille Anna la prego di restare con noi internet permettendo e nel frattempo passo la parola alla nostra relatrice Daniela Bianchi che ci parlerà proprio di questo cioè dell'importanza della comunicazione dell'importanza della comunicazione come elemento inclusivo come elemento abilitante di qualsiasi processo di inclusione e do la parola a te Bianca e Daniela grazie prego la parola a te grazie mille Beatrice un caro saluto a tutti devo dire che insomma gli interventi precedenti hanno lasciato sul tavolo molte suggestioni importantissime sicuramente il tema dell'informazione diventa un tema centrale e lo è ancora di più se collegato al tema dell'inclusione e io ho provato a sistematizzare un po' tutti i ragionamenti che possono venire da queste dalla coniugazione di queste due di queste due parole e proprio alla luce anche di quello che oggi si propone come l'oggetto di questo di questo webinar che è il tema dello spazio dello spazio civico ho provato a mettere insieme delle piccole idee e dei contributi vedo se riesco a condividere un po' quello che ho preparato vi chiedo un attimo non so se si riesce a vedere vediamo subito per il momento ancora no vediamo se con l'aiuto della regia possiamo condividere ecco sì 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 qualcosa appare grazie grazie Daniela sì adesso vediamo il tuo schermo perfetto e niente perché appunto si parlava di questo spazio civico come fondamento di ogni società aperta e democratica e uno spazio aperto dove i cittadini e le organizzazioni della società civile sono in grado di organizzarsi partecipare e comunicare senza ostacoli naturalmente questa è una definizione passatevi un po' alla provocazione forse probabilmente un po' ancora ideale nel senso che noi abbiamo riscoperto da relativamente poco anche tutta l'importanza dell'esercizio diciamo così dell'agire di questo spazio e anche se poi in queste diciamo così forme in cui non l'abbiamo conosciuto è sempre stato più un esercizio quasi di controllo no di tenere alta l'attenzione su determinati temi cosa che poi in qualche modo in questo rinnovato dialogo la pubblica amministrazione ha fatto sì che la pubblica amministrazione perseguisse anche delle strade di apertura rispetto alla concessione delle proprie informazioni alla condivisione dei propri processi ma il ragionamento che oggi volevo fare ma è fatto veramente in maniera molto veloce ma solo per lasciare sullo sfondo un elemento di concretezza è che questo spazio civico necessariamente va radicato in un territorio per dargli poi una conformazione un territorio che però noi non intendiamo più come strutturazione di un luogo e quindi comunque determinato da confini o ingabbiato dentro confini ma un territorio che da luogo geografico diventa il posto in cui vivere perché poi lo spazio civico esercita la sua funzione in tanto quanto si rapporta naturalmente con la qualità del vivere quotidiano e questo territorio connesso al termine dello spazio civico diventa la comunità questa comunità che è un insieme di organizzazioni, di segni, di regole per stabilire insieme criteri di sviluppo che possano assicurare vantaggi e benefici quindi questa connessione tra spazio civico ed elemento comunitario diventa quasi la mission che in qualche modo poi l'esercizio e l'agire di quello spazio civico in qualche modo si autodetermina ed ecco che se noi pensiamo al territorio come una trama che connette automaticamente il territorio e automaticamente su questo territorio e su questa trama che connette si determina il fattore dell'inclusione dove per far sì che questa trama in qualche modo adoperi tutte le proprie leve e riesca a perseguire tutti i propri obiettivi in termini di inclusione ovvio che è necessaria la connessione o quantomeno l'identificazione di alcuni soggetti che sono sicuramente i soggetti sociali, sicuramente gli amministratori, sicuramente le organizzazioni sicuramente i cittadini che condividono interessi ed obiettivi quindi il territorio in termini di inclusione forte di quella comunità agita su uno spazio civico diventa il luogo in cui tutti questi attori interagiscono in termini appunto di inclusione e dove quindi il processo decisionale diventa sempre più interconnesso perché è ovvio che poi qualsiasi attività diventa frutto di una decisione e in uno spazio che riconosce tutte queste soggettività e tutti questi attori è ovvio che il processo decisionale diventa sempre più interconnesso e quindi si pongono direttamente quattro domande sullo sfondo chi decide nell'ambito di uno schema come questo che abbiamo rappresentato? Perché decide? E questa è la domanda fondamentale che è ancora più importante del cosa decide ma che è meno importante del per chi decide cioè in un processo decisionale così interconnesso in cui tutti questi soggetti si trovano a relazionarsi tra di loro in vista di un obiettivo comune il tema della scelta della decisione da prendere di come viene presa questa decisione del processo che viene investito per prendere questa decisione è sicuramente importantissimo rimanendo sullo sfondo sempre la domanda più importante per chi io sto decidendo quindi chi è poi l'utente finale della mia decisione io ho amministrazione pubblica che metto in campo un processo condiviso, partecipato ho chiaro che poi la mia decisione impatta su questi soggetti ho chiaro che cosa sto decidendo perché questa decisione sia effettivamente rispondente alle necessità che possano favorire il miglior funzionamento di quello spazio, di quella comunità e di quel territorio e allora il tema fondante che può rivitalizzare anche tutto lo spazio civico e che rivitalizza tutto lo spazio civico è la domanda su che cosa stabilisco io l'interconnessione tra tutti quegli attori di cui ho detto prima e secondo me la suggestione da mettere in campo ma più che una suggestione è una definizione importante che dovrebbe in qualche modo entrare a far parte anche di tutte le discussioni che si stanno facendo e si stanno consumando in questi giorni soprattutto alla luce dell'attuazione del piano nazionale del PNRR è sicuramente la dimensione dell'impatto nel momento che metti in campo un processo partecipato nel momento che metti in campo un processo decisionale io devo aver chiaro qual è l'impatto cioè cosa voglio fare e per chi voglio farlo e questo cambia notevolmente il ruolo dello spazio civico dandogli una dimensione connotata da un territorio e da una comunità basata su un valore condiviso io elaboro comunque una sorta di community holder dove ho dei portatori di interesse dei rappresentanti di interesse dei decisori che riescano a trasformare quegli interessi in impatto quindi in valore per la crescita e per la qualità della vita e del benessere quotidiano quando noi parliamo di diritto sociale come di informazione come diritto sociale per accesso all'informazione di qualità e noi stiamo mettendo in campo una discussione che rientra ampiamente in questo tema di community holder perché io non posso immaginare e sono rimasta molto colpita dalle parole di Anna Masera che ha detto una cosa che magari sotto i nostri occhi me l'ha rappresentata in una maniera così chiara ed esaustiva che è veramente agghiacciante cioè nel momento che io ho un'elite che accede ad un'informazione di qualità perché è nelle condizioni di pagare ed ho una massa che accede ad una disinformazione dilagante perché gratuita è probabilmente io sto introducendo comunque un elemento distorsivo nell'esercizio anche democratico e nell'esercizio della partecipazione sto togliendo possibilità a determinati soggetti e ad ampie fette della popolazione di poter in qualche modo accedere al sistema al compimento al completamento all'avviamento di un processo democratico e questo del valore condiviso all'interno dello spazio civico per la sua trasformazione in community holder è un elemento importantissimo un elemento importantissimo perché poi a questo punto incide fortemente sulle strategie di valorizzazione territoriale ritornano in campo concetti importanti come quello della rappresentanza della rappresentatività del potere del patto dell'alleanza e del consenso cioè nel senso tutti questi meccanismi e tutti questi soggetti cambiano fortemente anche tutto il tema della reintermediazione cioè esattamente in uno spazio civico io che cosa sto rappresentando quindi chi è che in qualche modo ha esercizio di rappresentanza e soprattutto cosa sto rappresentando su quali meccanismi di potere io stringo il patto e quindi il valore condiviso diventa un elemento divinente perché sull'esercizio dei diversi diciamo così ambiti di potere che io posso esercitare o come società civile o come rappresentanza istituzionale io trovo comunque un'alleanza e trovo un consenso su questo valore condiviso ed è questo il tema forte della reintermediazione che entra a pieno titolo secondo me in tutti i ragionamenti che devono essere fatti rispetto allo spazio civico anche in un'ottica futura perché sono cambiate anche le mappe sociali lo abbiamo visto prima con l'esempio che abbiamo fatto prima e sono diverse le istanze economiche sociali e politiche e culturali e c'è quindi una necessità di ripensare radicalmente questo ruolo e quindi questo spazio civico diventa il luogo in cui esercitare questi nuovi sistemi di rappresentanza sia per ripensare radicalmente il ruolo della mediazione per l'aspirazione ad una nuova rappresentatività la messa in campo di nuove capacità di ascolto e dialogo con degli stakeholder e con i decisori la necessità di ripensare quindi il ruolo della mediazione scusate c'è una ripetizione e su questa piattaforma gioca in maniera importantissima il tema dell'informazione noi prima abbiamo detto che comunque abbiamo parlato anche di mancanza di fiducia come un elemento che in qualche modo sta caratterizzando sempre di più la nostra società probabilmente lo si vede anche poi in quel luogo che per antonomasia dovrebbe rappresentare il luogo dove la società può esprimersi che sono appunto le urne e la disaffezione al voto è testimonianza probabilmente anche di questo però la corretta connessione tra l'informazione e diciamo così la comunità può essere giocata sul diciamo così sul terreno sfidante della fiducia cosa abbiamo oggi un overbooking di notizie troppe notizie notizie false ed era poi tutto un po' il ragionamento che ci ha fatto che ci ha rappresentato Anna Masera quindi sempre più importante diventa la rilevanza dei contenuti e quindi sarà importante vedere anche quali possono essere i correttivi a quelle distorsioni di cui Anna Masera ci ha parlato perché l'importanza delle buone storie e i dati efficaci e comunque la bontà dei dati che noi in qualche modo dissegniamo e che quindi le persone a cui le persone possono accedere in realtà non sono dei dati non sono soltanto dei cloud così come noi siamo stati abituati a raccontarceli oggi ma contengono le storie di persone di individui in rapporti a contesti sociali e probabilmente questo è l'elemento che comunque non dovrebbe mai passare sullo sfondo e allora lo spazio civico diventa il luogo della tessitura sociale l'identità del territorio un'identità sempre più complessa nuovi equilibri cognitivi geopolitici sociali ed economici e quello che torna ad essere importante è la valorizzazione del capitano umano e un'azione coordinata cioè tessitura sociale sta a significare che tutto è in relazione con tutto e il governo strategico di queste relazioni può definire l'esercizio corretto in questo spazio civico delle libertà in vista e in virtù della democrazia e quindi lascio come ultima suggestione questo legame tra lo spazio civico questo ruolo di facilitatori e il grande moloch del PNRR perché comunque il PNRR è un esercizio di concretezza incredibile che in questo momento noi noi abbiamo per il semplice motivo che la sfida dell'impatto è quella a cui il PNRR in qualche modo ci sta richiamando la sfida della coprogettazione la sfida della coprogettazione la sfida dell'impatto perché il PNRR è un insieme di missioni è un insieme di ambiti è un insieme di componenti che richiamano comunque dappertutto il forte tema dell'infrastrutturazione cioè tangibile ed intangibile cioè del punto di caduta e quindi questa infrastrutturazione questo punto di caduta c'è la necessità in qualche modo di agirlo cioè di di attuarlo e si parlava anche in uno scambio di battute con con Beatrice e con Sergio Costinelli di questa superfiettazione di comitati cioè del fatto di aver inserito all'interno del PNRR un comitato civico che dovrebbe controllare cosa accade ecco io dico che la vera sfida sarà nel momento in cui la parte civica il civismo non viene più chiamato a fare soltanto da garante da controllore o da censore su determinati meccanismi ma entra a far parte invece della coprogettazione della cofare anche perché molto spesso lo spazio civico è abitatto ed occupato da organizzazioni da associazioni che in qualche modo sono già il terminale di un attivismo molto molto importante di persone che sono abituate a far cose di associazioni che sono abituate a stare dentro le dinamiche anche più marginali di questa società quindi immaginare che il PNRR debba essere controllato da un comitato che sta lì soltanto a censurare e probabilmente insomma non è neanche il non consente neanche di esaurire tutta la portata del ruolo innovativo che invece potrebbe essere dato a questo spazio probabilmente mi sono come dire allontanata e dispostata da quella che era il compito assegnato però sicuramente penso che le dinamiche dell'inclusione e dell'informazione non possono essere soltanto due aggettivazioni o due componenti diciamo così tematiche ma devono essere contestualizzate e devo dire che insomma io ultimamente mi appassiono molto a questo tema della caduta a terra dei concetti e credo che anche per le sfide che il PNR ci pone necessariamente queste diciamo così questa sfida questa messa a terra si compie necessariamente nei territori e tra le persone grazie Daniela grazie veramente bellissimo il tuo intervento se posso dirtelo perché ci sono tantissimi spunti grazie di approfondimento veramente un'utile chiarissima illustrazione di un punto di vista innovativo di un punto di vista nuovo che spero avremo modo di fare tesoro dei tuoi suggerimenti proprio lì dove ci sarà da costruire questa strategia di governo aperto è veramente auspico che tu possa dedicarci del tempo e parte dei tuoi spazi appunto anche nei prossimi incontri nei prossimi appuntamenti che contiamo di organizzare proprio in questo processo di co-costruzione della strategia di governo aperto perché in effetti proprio un'osservazione a margine di tante cose che mi sono segnata devo dire rispetto a quello che dicevi il tema centrale del chi decide no? in questi nuovi contesti plurisuggettivi che prevedono in questo spazio di cui tu parlavi che coinvolgono questi spazi che coinvolgono più soggetti più persone di prevenienze diverse di rappresentatività diverse portatori di rappresentanze diverse e questo tema ha anche correlato forse alla necessità di creare delle alleanze fra non solo i poteri pubblici le istituzioni ma i portatori di interesse e anche coloro i quali gestiscono le piattaforme in questo momento insomma assolutamente centrali in questo tema dell'informazione e dell'informazione di qualità per garantire una diffusione anche di quello che diceva Anna Masera essere la cultura dell'accesso all'informazione un'educazione all'accesso all'accesso ad un'informazione di qualità e quindi una diffusione di criteri e di parametri condivisi per una verifica anche delle fonti informative sulla cui base ognuno di noi può quotidianamente alimentare il proprio pensiero formarsi delle idee e delle opinioni grazie ancora tante a Daniela e do quindi la parola alla nostra referente di Formez che concluderà insomma con una serie di osservazioni diciamo a margine di quanto detto non so se chiedo ecco Laura sei già qui ti lascio la parola non so se ci sono dei quesiti che vanno rivolti ai partecipanti forse Laura Manconi magari terrà conto anche di eventuali domande da rivolgere ai relatori grazie a te Laura la parola grazie Beatrice grazie davvero ai relatori di questo webinar in realtà devo dire ci sono stati molti commenti è stata una chat molto molto utilizzata molto popolata sono state condivise molte risorse soprattutto a seguito degli interventi insomma cominciare da quello di Alessandro e sino arrivare a quest'ultimo di Daniela che hanno toccato molti aspetti di grande interesse soprattutto devo dire il tema dell'informazione ha suscitato molto interesse perché si collega a moltissimi aspetti che sono stati anche evidenziati sui quali insomma c'è un dibattito anche nazionale quindi al di là del discorso ovviamente legato alla diffusione dei giornali diciamo il ruolo dei social media e le politiche insomma le possibili strategie attraverso le quali si può contrastare in qualche modo sia la disinformation che la misinformation che sono più o meno diciamo gli ambiti nei quali tutti noi che quotidianamente proviamo a mantenerci informati ci troviamo a muoverci il punto che volevo innanzitutto evidenziare è ugualmente ringraziando i relatori è stato proprio quello di averci aiutato a chiarire che cosa l'etichetta dello civic space in generale di difesa dello spazio civico possa significare è un tema molto nuovo soprattutto per il dibattito italiano legato al tema del governo aperto è stato introdotto come diceva Beatrice in apertura tra i temi della call to action di questo ciclo di OGP come un tema sul quale si invitavano i governi e quindi in questo caso il governo italiano che partecipa all'iniziativa a promuovere un dibattito e a inserire delle azioni che potessero andare nella direzione di rendere insomma sempre più aperto l'accesso da parte di tutti a questo spazio di diritti e di informazione lo ricordo anche perché questo ciclo di webinar è inserito all'interno del processo di cocreazione del quinto piano d'azione nazionale e aveva proprio l'obiettivo di aiutare la creazione di una conoscenza comune su che cosa c'è dietro questi temi siamo partiti dal tema della partecipazione abbiamo poi ragionato su anticorruzione e integrità sul tema dell'innovazione digitale anche in chiave inclusiva perché questo è un aspetto che è stato richiamato anche nel webinar sull'innovazione digitale anche oggi si è parlato di inclusione legata al tema del spazio civico si è parlato di partecipazione sono tutti elementi sui quali secondo me sarà necessario continuare a fare un ragionamento insieme noi adesso stiamo diciamo per far partire proprio la fase di vera e propria di cocreazione del quinto piano quindi i momenti successivi saranno proprio di approfondimento su questi temi attraverso dei laboratori e attraverso un incontro deliberativo di cocreazione in cui invitiamo le amministrazioni e le associazioni della società civile che sono interessate e coinvolte sul tema del governo aperto a lavorare con noi a partecipare a questi momenti in cui partendo da questi temi andremo a cercare di capire quali possono essere le azioni prioritarie da realizzare e costruire insieme possiamo anche questa era un'idea di partendo proprio dai risultati di questo ciclo di webinar progettare degli approfondimenti quindi nuovi appuntamenti online nei quali continuare a ragionare ad approfondire su queste tematiche per far emergere anche eventualmente ambiti di riflessione di ragionamento che oggi non sono stati toccati ma sui quali probabilmente anche vedendo la densità dei contributi i temi che sono immersi anche i contributi nella chat probabilmente c'è anche l'esigenza e una domanda di andare più in profondità io sono le 13.30 quindi vorrei terminare puntuale quindi non so trarre altro tempo vi ricordo che nella chat avete il link a un questionario di customer che è quello che vi sottoponiamo sempre in occasione di questi appuntamenti vi chiediamo di darci il vostro feedback rispetto a questo webinar ma anche se avete osservazioni e commenti che volete farci arrivare relativamente all'intero ciclo chiudo con un dato numerico prima di questo webinar abbiamo un po' iniziato a ragionare su come era andata abbiamo visto che abbiamo avuto oltre 800 iscrizioni per questo ciclo di 5 webinar per noi ovviamente è un grande risultato è un segnale importante di interesse su questi temi quindi insomma per quello che dicevo continueremo a fare un ragionamento per capire come possiamo magari offrire un programma che vada a ampliare ad approfondire questi temi ringrazio molto i relatori di oggi ma in generale i relatori di tutti questi cicli di webinar che sono stati preziosissimi per noi per potervi fornire questi primi orientamenti su temi a volte sconosciuti a volte invece conosciuti ma dei quali non avevamo magari cognizione di quali fossero le evoluzioni gli sviluppi in un contesto attuale nazionale europeo che è molto cambiato a seguito della pandemia quindi grazie davvero a tutti i relatori grazie a molti a voi che avete partecipato così numerosi a questo ciclo di webinar vi invito a seguire i prossimi passi del percorso di cocreazione sul quinto piano d'azione nazionale attraverso il sito open gov e attraverso il sito di format che comunque dà evidenza di tutti i passaggi successivi quindi vi saluto e mi auguro di ritrovarvi al prossimo appuntamento grazie ancora a tutti i relatori e i partecipanti a presto grazie a presto grazie arrivederci grazie a tutti grazie a voi buongiorno grazie grazie a tutti